Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Antonello che mi chiede di parlare del film di Claude Chabrol, quindi di produzione francese del 1992, tratto appunto dal romanzo di Georges Simenon, maestro del noir e del thriller francese in letteratura, il nostro Chabrol, che non è nuovo all'incontro con il noir e con il polar e con Simenon, qui tira fuori un film dove le due protagoniste sono in realtà parte integrante e totale della messa in scena, ovvero una grandissima Marie Trintiniana a fare appunto la nostra protagonista Betty e la splendida Stefan Audran a fare Lori, perché la storia è poi semplicissima, Betty praticamente è inalcolizzata, che viene buttata fuori dalla famiglia, è girovaga e questa Lori, questa donna un po' più grande di lei, praticamente ne subisce un certo tipo di fascino e anche un certo tipo di disperazione e decide di portarla con sé praticamente e incominciano a conoscersi e quindi Lori la ospita praticamente, è solo che la nostra praticamente sta puntando ad altro, in una costruzione appunto, in questo punto alliva Chabrol, in una costruzione fatta da flashback e flashforward dove in realtà forse più del passato vediamo in un certo senso il futuro, è un film molto particolare in questo senso qui, con una fotografia magnetica e magnifica, veramente fatta di stralusso, un montaggio ottimo e le due attrici fanno a gara veramente, è un film anche abbastanza pruriginoso in un certo senso, dove ci sono anche delle bellissime nullità, dove l'erotismo però viene a tratti semplicemente accennato o similvisto, per un film in realtà che lavora molto sul drama e lavora proprio su questo personaggio di Betty, che non vorrei dirvi troppo ma che in realtà nel suo sadismo è anche masochista, nel distruggere gli altri sembra distruggere se stessa attraverso praticamente un'evocazione di un certo tipo di modo e stile di comportarsi che è completamente fuori da ogni logica, così come ogni tanto risulta pesante, c'è poco da dire, non è uno dei migliori film di Chabrol, questo modo di riportare tutto indietro flashback che ferma un po' la narrazione e che diventa a un certo punto anche confuso perché i piani vengono sempre innestati in maniera diversa e non si riesce bene a capire dove si va, in tutto questo però certo c'è sempre l'arte del grande Chabrol e quindi il film non essendo uno dei suoi migliori ma rimane sempre comunque un film interessante, un film da vedere, un film su delle donne che vengono un'altra volta costruite e decostruite da una scrittura a tratti veramente eccellente e che appunto basa comunque il rapporto fra queste due donne come idea principale, un'idea principale che viene portata avanti in maniera sempre più interessante da una trama ripeto che non è una quasi una trama, è una trama che si trasforma in altre mille trame e quindi la storia di questa Betty divorziata ripeto annegata nell'alcol che cerca quasi quasi come se fosse diciamo come ho detto in molti è vero un vampiro di succhiare la vita della donna più anziana per cercare di mettersi su però in realtà è un motivo che sembrerebbe quello principale ma in realtà poi ci sono tante altre cose dietro che sono veramente interessanti in questo noir perché poi è questo, questo polar chiaramente un dramma appunto anche sulla borghesia su un certo tipo di descrizione di un certo tipo di vita che qui viene smontata assolutamente dal pessimista Chavrol che presente con quel finale spacca tutto, quindi il link del film è qua sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su Youtube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi come ho detto c'è la campanellina sono cose che gratuite fanno contento e frusciante e poi ripeto è un film che probabilmente non è la maggior opera di Chavrol che comunque è un genio, ha fatto dei film uno più bello dell'altro da ormai 60 anni e che qui comunque riusciva a tenere due attrici alla stragrande a costruire diciamo appunto questo momento di distruzione, autoristruzione e compiacimento della stessa attraverso due personaggi incredibili che riescono a darsi battaglia sia per citazione che per scrittura, peccato ripeto che comunque il film sia a tratti troppo complesso e non riesca a sciogliersi completamente se no saremo stati di fronte veramente a un altro livello così se solo si può dire è un bel film del buon Chavrol, non uno dei suoi film migliori ma resta comunque intrigante nonostante a volte il suo appunto voler andare avanti e indietro riesca a volte semplicemente a confondere più che diciamo così a intrigare comunque la tensione c'è, la paura c'è in un certo senso ed è quasi un horror, un horror dell'anima di sicuro, l'anima di una donna tormentata fino a doversi far del male a tal punto film assolutamente da non perdere comunque come tutto Chavrol si è andato sottoscritto